Contro break con Tiri Bocchi dalla parte opposta, sfugge a Vergasola, Tiri Bocchi, palla aperta verso Valdés, arriva Padoin, Valdés dalla distanza, il gol di Valdés! 1-0, sedicesimo minuto! Un telar! La risposta del Milan immediata, con un telar! Il suo sinistro da fuori! Che gol Riccardo, incredibile questa partita!